niente di troppo devastante la tizia di ieri ok mettiamo gaming così si vede a che punto sei di Hollow Knight? ho menato la guerriera dalla lì che aveva lo spiedino a mo' di boomerang tra l'altro ho comprato un sacco di cose perchè non ti riposi, non ti stressare, ma io mi riposo quando posso grazie mille comunque allora abbiamo menato la tipa, ah no si poteva andare giù di là ok allora andiamo su dobbiamo andare su sono cascato dio svizzero aspetta avevo il dash ok non è male se vuoi il dash si ho il detersivo dash ma continuo a cascare come un pirla e vaffanculo e là beh là c'è qualcosa là c'è qualcosa proprio sopra il detersivo esattamente oddio oh no con erro che qua non ce l'ho mai stato dove cazzo sto andando oddio ma vaffanculo guarda i money 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 must be funny in a rich man's world ho sbagliato aspetta beh c'è roba qua dammi tutti i money baby ah ma è una shortcut questa qua palesemente sei una merda questa è una shortcut per forza però non ho la mappa ecco perché sì questa è una shortcut ok c'è la play c'è la play sì in teoria ce l'ho la 4 la 5 non riesco a trovare da nessuna parte se no la comprerei se riuscisco a trovare la comprerei ok direi che possiamo andare sì a parte che posso andare a prendere la chiave con tutti questi soldi assolutamente assolutamente la chiave posso andare a prendere oh qua ad esempio non sono mai riuscito ad arrivare perché non avevo il dash il detersivo e andiamo anche a prendere i soldini assolutamente dio svizzero le cadute hai rotto il cazzo ma dai ma non è vero mai ma che balla di là non c'era mica un cazzo alla base segreta ma il problema non è il problema non è questo il problema è che letteralmente non si trova non si trova la ps5 ho cercato ovunque non si trova non è letteralmente il problema dello streamer o di quant'altro che proprio non c'è e non è che al gamestop gli dico salve io sono andrea del 1988 e loro mi fanno sti cazzi cioè non è che mi dicano uh uh dovrei sentire direttamente da quelli che la vendono e le faccio la promozione ma fino a prova contraria non è una regola non mi riposo dovrei sentire da loro aspetta eh sblocchiamo sto cazzo di coleottero ding dai calmo ma là c'è altra roba io voglio andare sopra quant'altro sbloccate non andare sopra ah se ti iscrivo scrivimi tu su instagram se sei un fornitore scrivimi su instagram magari ci possiamo accordare in qualche modo qui ho menato la tipa ok qua che cazzo c'era qua non c'era niente di di ah qua non ci poteva andare perché non avevi il detersivo bella nuova zona non ti ho poto le siepi come sempre lago di un salve panchino siamo notati molto il nostro tragitto le squadre di credito queste vecchie strade possono condurre a un luogo tanto lo sole gente animato solito di conto che il succede è stato dimenticato a tempo non credo per prendere un attimo di pausa un tipo strano sembra essere interessato al lago forse fare meglio affidare il mia cuno nel caso di nostro incontro a prendere una brutta piega ah così quale tipo salve ma che cazzo ma smarro grazie mille per la salve ma che cazzo ma io pensavo parlasse questo stronzo scusate sono io che mi starò incontenendo no ma no ma no ma no ma no voilà l'ho ammazzato io nami nobis anche se mostrano evidenti segni di usura siccome ti viene le terre lassù sarà sufficiente di farti strada tuttavia ti vai qua giù incontrare presto dei pericoli che non hanno niente a vedere con ciò che si trova in superficie eh capito scusami non mi puoi non mi puoi non me lo puoi potenziare tu la culeo scusami eh già che sei qua potenziamelo tu scusami di qua non si va sicuro ah posso comprare la chiave ah si 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 quello sicuramente quello che c'era qua ok allora direi che possiamo prendere la scorcia troia e andare su torniamo dal camaleonte aiuto come risalgo aiuto aspetta aiuto come risalgo forse da destra famola che meraviglia ecco qua e la shortcut l'abbiamo già fatta andiamo a prendere lì il torci bruco andiamo col torci bruco e ce ne andiamo stai calmo stai calmo dai calmo allora io direi di andare aspetta qua perché mi sa che devo andare devo risalire a prendere la chiave sì ma stai calmo ding 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 a parte che non posso andare anche dello sciamano voodoo che non poteva arrivarci salve esimio aspetta che mi serve sì mi piace la chiave semplice me la dia 950 tacci sua puttana tua sorella quanti cazzo di soldi speriamo che ci sia qualcosa di utile almeno salve però che non inganno sono zote il potente cavallieri di gran fama ma chi ti si incula mentre ascolti nel tuo villaggio mi sono avventato la scuola fosse e tu ho abbattuto una grossa veramente io l'ho abbattuta sì sì gloria ma ho tempo della tua traduzione devo riposare zio ma hai fatto cagare ti stavo ammenando e io l'ho serena c'è un'arena in qualche parte qui sotto un gente come noi incontriamoci e mettiamoci la prova parete scendolo giù vieni a cercarmi se hai coraggio va bene verrò a romperte il culo più tardi apriamo vediamo che vediamo che cazzo c'è ok qui fanno ritti satanici lo sapevo che paura dio santo ma chi sei il geno della lampada forse troppo si beh ora tu non svegliato ma non fa niente potrai perfino essere di aiuto mi chiamo Gigi Gigi proietti Gigi D'Alessio essere arrivato fin a me è perché hai bisogno del mio aiuto talvolta ci lasciamo dietro dei rimpianti in questo mondo come delle macchie nere se non affrontiamo questi rimpianti la speranza è iniziare ad abbandonarci tu hai dei rimpianti piccoletto lasciarti un po' un momento non ho rimpianti sei molto fortunato non ho bisogno dei miei servizi ah quindi praticamente mi fa mi fa tornare tutto qua tutto qui solo per questo non è che è stato l'acquisto dell'anno se posso dire insomma pensavo di meglio mi restituisce l'anima oscura lì quando la perdo ok dobbiamo andare allora di giù di qua speravo di qualcosa di un filo meglio ad essere sincero comunque abbiamo lo stesso mi scusi non è per cattivare ma devo riaccumulare denaro adesso si chiama Hollow Knight questo gioco andiamo giù di qua qua c'è sempre l'uovo kinder che è da schiudere immagino sì tempio dell'uovo nero almeno ti ridai i soldi sì vabbè d'accordo però pensavo a qualcosa di un po' più utile in realtà qui ci sono i tipi depressi che mi vogliono abbracciare oddio andiamo giù di qua secondo me può essere utile aspetta non era no non era di qua lo sciamano voodoo no non era di qua qua c'era il tipo della miniera che però non riusciva a fare un cazzo di niente le mie retine se non ti senti tanto bene stai a casa non si va a scuola se si sta male stai a casa riposati la verifica la verifica la recupererai anche perché fare la verifica da malato non è una grande idea qui non posso farci niente perché non crolla con la mossa quale mossa mica posso sfondarla così serve il giù di wario esattamente no non penso non posso fare il kamehame il kamehame verso il basso no no non me lo fa fare peccato allora di qua non si va no penso che serve un'altra mossa il kamehame verso il basso non posso farla credo che molto più semplicemente servirà un'altra mossa quindi per ora ce ne andiamo fino adesso non mi sono vaccinato per paura però mi sono deciso e domani mi faccio la prima dose fai bene grazie mille per l'euro Anonymous non ti preoccupare Anonymous vai tranquillo la vera paura è una cosa assolutamente normale ma stai tranquillo non ti succede niente io ne ho fatte due anzi io ne ho fatte due è quello della Pfizer la seconda dose mi ha dato una cassa meravigliosa mi sembrava di essere fatto e ubriaco gran roba infatti ho sempre detto Pfizer tutta la vita ti dà una gran cassa tanta roba comunque non ti preoccupare patato sarai benissimo è tranquillo la paura è normale ma la paura fa parte del nostro istinto più primordiale quindi in realtà non è una cosa di cui devi io non vedo nulla io non vedo un cazzo dove posso mi serve la lanterna c'è ragione kamehameha e poi sarebbe più giusto dire adoken ma almeno stesso c'è un interruttore sopra sembra ah qui posso usare il dash il detersivo ottimo ma sì ma sono un idiota ma ma sono un coglione ma che problemi oggi oh e che cazzo c'è lo stronto lì come faccio ti devi levare o meno e come passo con sto coso scusate mi devo ricaricare dio no aspetta aspetta eh ma che ca no sono troppi schifi no aspetta aspetta no di qua si va solo dal tizio ottimo un po' di vita ma dai ma che è oggi ma che c'era non mi ricordo più qua non c'era un cazzo di nessuno quindi ah ecco è qua lo sciamano voodoo ecco è qua volevo andare si gra arrivederla grazie mille è stato un piacere no 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 vaffanculo che cazzo è salve zuccherino accomodati e fa come se fosse a casa tua ma anche no sono salubra no lei è salubra e questo è il mio negoziato di amuleto sono stati abitanti del villaggio addirittimi ma è è proprio un villaggio edizioso non trovi caldo intimo e pieno di vita che cazzo di cosa stavo parlando si amuleto vedo che è iniziata la collezione non te lo mostrerò i miei puoi comprarne uno se ti va la vedo dura signorina non c'ho soldi no questo lo voglio voglio comprare l'allungamento del pene questo mi piace rimanere fermo quando dà il fondente si l'indore il fendente no voglio questo qui quello del fendente mi piace questo qui del fendente mi piace mi è comodissimo poi voglio anche voglio anche quell'altro che mi allunga il pacco aspetta no fermo un attimo aiuto qual era aiuto qual era select ok no questo lo voglio tolgo questo e metto questo qua questo mi è troppo comodo al momento sì ma io voglio più incavi io ho bisogno di più incavi questo è molto comodo mi servono molti più incavi ma porca puttana devo capire dove devo capire dove merda trovo gli incavi e poi devo anche andare su c'è una strada che non è ancora esplorato qua a sinistra qua a sinistra è lì è quello mi sa amore ciao e come faccio a salvarlo sto coso e non posso salvare come faccio anche se faccio così mica posso andare a salvarlo ma ammazzo cioè ma come ci arrivo devo avere il doppio salto a par force ma io voglio salvare ciccio dove cazzo vado andrò a destra perché non vedo molte altre no non posso saltare sulle spine andiamo di qua a destra sì è carinissimo mi fan troppo mi piacciono troppo quei bruchini no se li colpisco perdo svengo perdo vita e vado a fanculo capisci con la culo in basso sulle spine non è mai andata come cosa qua non c'è un cazzo di niente non ci posso andare e mo dove mica devo andare proviamo in alto a destra funziona ah beh raga insomma ci proverò dopo no qua c'è la miniera e che cazzo qua non c'è nulla che posso fare devo andare a verde via per forza perché non è che posso fare nient'altro qui quindi funziona hai ragione funziona allora andiamo un attimo a salvare il bruchetto dove cazzo stavo non mi ricordo più ok giù di là andiamo un attimo a salvare il bruchetto che sverla aspetta dove merda stavo ok giù di qua in fondo giù di qua altro che batman benissimo benissimo amore ciao che carina bello amore ora andiamo a riscuotere dal nonno bruco dobbiamo andare a riscuotere dal nonno bruco adesso che non mi ricordo assolutamente ah è là andiamo a riscuotere dal nonno bruco ci deve dare i big money vabbè mi son fidato si se non mi fosse fidato non avrei ah c'è coso c'è avil questo mi da money quindi lo faccio aia che sberla e la avil dammi soldi avil andiamo da nonno bruco a riscuotere i mo qui c'era il tipo scemo ma a noi non interessa perché l'abbiamo già battuto il tipo scemo qua mi servirà decisamente il doppio salto per fare un sacco di cose senza doppio salto non faccio un cazzo praticamente di qua cos'è che c'era non faccio un cazzo